Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi finalmente vede la luce un progetto al quale tengo tantissimo e soprattutto al quale lavoro da altrettanto tempo. È la storia, quella che sto per andarvi a raccontare, di una donna, principalmente una donna che poi via via nel tempo è diventata un'icona della letteratura inglese, ma che oggi purtroppo, posso dirvi, è troppo poco conosciuta in Italia. Una donna, una scrittrice, un'insegnante, una donna indipendente, una donna che è stata definita la regina dell'immaginario e che vi posso garantire, io sono convinta, che avesse accesso a un mondo veramente unico, un mondo tutto suo, una donna coraggiosa, perché quel mondo, in qualche modo, attraverso i suoi libri, è riuscita a farcelo vedere, a farci entrare in un mondo privato, suo, ma l'ha reso pubblico. Io, dopo aver incontrato Angela Carter un anno e mezzo fa, non ho più potuto fare a meno di lei, letteralmente. Piano piano, nel corso di questo anno e mezzo, ho recuperato tutto il possibile di lei, mi sono lasciata trasportare dalle sue parole, perché l'unica cosa da fare con Angela è lasciarsi trasportare da quello che vi racconta e poi ho deciso che dovevo sapere di più della sua vita, dovevo capire cosa era stato il suo passato per poter capire, attraverso le sue opere, fare un confronto appunto della sua vita reale con quella che ci descrive nei suoi libri, totalmente immaginaria, chi era veramente Angela. Quindi, adesso, cercherò in qualche modo di raccontarvi, con i miei appunti alla mano, perché di cose da dirvi ce ne sono veramente un'infinità, chi era Angela Stalker. Angela Stalker, perché questo era il suo cognome prima di sposarsi, nasce in una cittadina a sud dell'Inghilterra, a Eastbourne, nel 1940 e da subito, sin da piccolissima, instaura un rapporto con la sua famiglia, con i suoi genitori, in particolar modo molto difficile, molto conflittuale. Il padre era un giornalista, Hugh Stalker, un uomo che lei stessa descrive in un'intervista come malleabile, quasi come se fosse Creta, nelle mani di chiunque. Un uomo molto buono, un uomo molto accondiscendente, che ha lasciato fare, per quanto riguarda la gestione dell'educazione della famiglia, totalmente a sua moglie, Olive. Qui nasce il primo problema, il primo nodo nella vita di Angela. Il rapporto tra Angela e sua madre, Olive. Fu un rapporto molto difficile. Olive era una donna che non riusciva in alcun modo a trasmettere affetto e protezione a sua figlia Angela. L'unico modo che conosceva per dimostrarle il suo affetto era preoccuparsi letteralmente per lei, soffocandola di attenzioni e ipernutrendola. Angela sin da bambina cominciò a soffrire di problemi di alimentazione perché era nettamente in sovrappeso. La madre era opprimente nei suoi confronti, aveva terrore delle malattie, aveva terrore di quello che stava succedendo nel mondo. Sono gli anni appunto 40 e sta imperversando la seconda guerra mondiale. È in quel periodo che Angela deve lasciare la sua casa con la sua famiglia e recarsi nello Yorkshire a casa della nonna, la madre di Olive, la nonna materna Jane. Una donna che invece è l'esatto opposto di sua figlia Olive. È una donna rassicurante, una donna che trasmette protezione e calore ad Angela. Tanto è vero che la bambina si affeziona terribilmente a questa nonna e attraverso i racconti, le storie che Jane le fa, le dice, le narra perché era una scrittrice, sua nonna Jane, Angela rimane affascinata, talmente affascinata da diventare dipendente da quei racconti perché furono la prima finestra su un mondo immaginario che piano piano si aprì nella mente di Angela. Gli anni passarono, loro rientrarono nella loro casa finita la guerra, Angela cominciò a crescere ma i problemi non mancavano, il rapporto con la madre diventava sempre più conflittuale e via via che Angela cresceva e diventava, si avviava verso l'adolescenza, il suo modo di reagire, di scalpitare all'ipercontrollo della madre fu quello di cercare di avere un controllo sul cibo diventando anoressica, sviluppò un'anoressia nervosa e cominciò a dimagrire terribilmente. Un altro modo che Angela trovò di provocare, di cercare di ottenere una reazione da parte dei suoi genitori e in qualche modo scrollarsi di dosso da quella gabbia dove si sentiva intrappolata fu di cominciare a utilizzare la parola per provocare. Cominciò anche a vestirsi in modo eccentrico, a fumare, a portare tacchi alti, a vestirsi e truccarsi in modo pesante per cercare di creare un impatto sui suoi genitori. Arrivato a un certo punto, terminati gli studi, quelli diciamo d'obbligo, Angela espresse l'intenzione di iscriversi all'università ad Oxford per cominciare a studiare. La madre, essendo iperprotettiva, ovviamente acconsentì, ma le disse che acconsentiva una sola condizione, ovvero che anche lei si trasferiva a Oxford insieme a sua figlia, avrebbe preso un appartamento nelle vicinanze per continuare in qualche modo a perpetrare questo ipercontrollo su di lei. È in quell'occasione che Angela, pur andando contro al suo volere e ai suoi desideri, decide di autosabotarsi per la prima volta nella vita e rinuncia agli studi. Non può accettare l'idea che sua madre si trasferisca insieme a lei e che continui a seguirla. A quel punto decide di iniziare a lavorare e di intraprendere la stessa carriera del padre, diventando giornalista, scrive presso una testata giornalistica, scrive dei piccoli articoli, ma nonostante la sua bravura, tutti la notano, tutti si rendono conto della sua spiccata intelligenza, Angela non è assolutamente soddisfatta, continua a sentirsi in trappola dentro una prigione stretta, ha bisogno di libertà, è in cerca di una voce, è in cerca di una maturità che non le è stata concessa fino a quel momento. Comincia a tirare fuori argomenti scomodi per la famiglia stalker, comincia per la prima volta a parlare di sesso, comincia a parlare di crescita, di cambiamento che lei comincia a notare chiaramente nel suo corpo, sta diventando una donna, ma quelli sono argomenti totalmente tabù nella famiglia stalker. E allora Angela in quel momento, siamo arrivati al 1960 e Angela ha 20 anni, decide di sabotarsi un'altra volta e di buttarsi a capofitto, credendo che in qualche modo fosse una soluzione ai suoi problemi, in un matrimonio lampo. Incontra Paul Carter e lo sposa immediatamente. Una volta intrapresa però la vita coniugale, la vita di moglie, la vita soprattutto di casalinga, la prigione che aveva lasciato nella sua famiglia d'origine la ritrova con la sua nuova famiglia creata insieme a Paul. Paul purtroppo è un uomo che soffre di depressione, è un uomo che opprime Angela in tutto e per tutto, chiedendole di temperare ai suoi doveri di donna di casa. A quel tempo Angela comincia a tenere dei diari attraverso i quali sfoga la sua frustrazione, scrive incessantemente di voler scappare, di voler fuggire da quella realtà, di non poterne più, di limitarsi a fare le faccende domestiche. Lei sa che dentro di sé c'è qualcosa che scalpita, che deve uscire, c'è qualche mondo nascosto negli anfratti della sua mente che vuole vedere la luce. Ha bisogno solo di essere guidata nel scoprire questo mondo. Sarà nel 1963 quando incontrerà la sua anima gemella, la sua anima affine, un'amica, una donna eccezionale, tanto quanto Angela, che si chiama Corinna Sogood, un'illustratrice di libri, un'illustratrice ma anche una donna che riusciva attraverso il teatro delle marionette a interpretare e rappresentare delle storie magnifiche. Sarà proprio Corinna ad aprire il mondo immaginario nascosto, segreto, che stava sempre lì nella mente di Angela e darle il via, darle il coraggio di fare un salto e di balzare in alto. Sono anni molto difficili e Angela decide di riprendere gli studi. Capisce che le mancano i mezzi per poter fare quello che lei sogna, per poter trovare quella voce e attraverso quella voce raccontare le sue storie. Si iscrive all'università, a Bristol, e decide di studiare letteratura inglese medievale. Studia e nell'arco di quegli anni legge più di 200 libri. Si butta a capofitto nello studio, si butta a capofitto nella letteratura, nella storia del passato, nelle storie che ci sono state tramandate e che conosciamo. Se ne impregna, ogni giorno di più legge, legge pagine dopo pagine, fin quando, arrivato a un certo punto, prende una decisione e tenta, inizia a provare a scrivere. Scrive all'inizio qualche poesia, scrive qualche raccontino, fin quando, nel 1966, esce il suo primo vero romanzo, ovvero Shadow Dance. Un romanzo che non è mai stato tradotto in italiano, non ha mai visto la luce purtroppo qui in Italia e questo mi dispiace tantissimo perché, pur essendo ancora un romanzo acerbo, dimostra, contiene tutta la potenzialità di Angela Carter. È una storia molto cupa, è stato considerato il primo romanzo che è stato inserito all'interno di una trilogia chiamata la trilogia di Bristol. Questo perché questi tre romanzi di cui ora vi andrò a parlare, sono stati tutti ambientati da Angela in un quartiere particolare a Bristol, molto cupo, molto oscuro. La storia vede tre protagonisti, tre personaggi principali. Sono due uomini, inizialmente, di cui uno ci racconta proprio la storia, la voce narrante che è Morris, è un ex pittore fallito, un uomo che colleziona oggetti d'antiquariato. È un uomo che è frustrato, è sposato, vive con questa donna, ma conduce una vita molto monotona. E invece il suo amico, il suo compare d'affari, perché ora vi dico cosa fanno questi due uomini, è un uomo che porta già un nome molto particolare, si chiama Honey Buzz. Un uomo che ama utilizzare le persone come se fossero giocattoli. Lui pensa di poter fare della gente, dell'essere umano che gli sta accanto, che sia esso uomo donna, quello che vuole, quello che crede. Lui muove la gente come se fossero marionette. Questo è un aspetto, una caratteristica, che per diverso tempo noi incontreremo, si perpetrerà nelle opere di Angela Carter, proprio perché è in questi personaggi che lei riverserà tutta l'angoscia, tutto il significato che ha avuto per lei essere gestita e manovrata nel tempo, prima da sua madre e poi da suo marito Paul. Questi due personaggi cosa hanno in comune? Loro gestiscono una bottega, una bottega, un negozio di chincagierie e hanno in comune il fatto che sono appassionati di andare a saccheggiare letteralmente case abbandonate per poter impossessarsi di oggetti abbandonati e rivenderli all'interno della loro bottega. Tra di loro però c'è una figura, una figura femminile predominante, nonostante all'interno della storia sia poco presente perché la incontreremo all'inizio, sapremo subito cosa le è accaduto e poi la rivedremo solo alla fine del romanzo, una donna molto particolare, bellissima apparentemente, ma è terribilmente sfregiata, ha uno sfregio in viso, un taglio che le attraversa l'intero volto. Si sa, il lettore sa da subito che uno dei due uomini è coinvolto in questa situazione. È una storia molto cupa, una storia attraverso la quale Angela Carter per la prima volta parla di vittima, parla di essere vittima di qualcosa, parla della figura femminile che in qualche modo rimane sfregiata, rimane deturpata per sempre da qualcosa che le è accaduto nella sua vita e che si porterà dietro nel corso della sua storia. Piano piano che passa il tempo da questo romanzo un po' acerbo, Angela Carter l'anno dopo partorisce una storia, questa è stata pubblicata in italiano, se la trovate vi invito caldamente a recuperarla, è molto più potente, molto più forte, in cui caratterizza ancora di più i suoi personaggi, in cui il personaggio che abbiamo incontrato precedentemente, Honey Buzz qui assume una valenza ancora più forte. La storia è la bottega dei giocattoli, si intitola così, esce nel 1967 e vede protagonista una ragazzina che si chiama Melanie, è un vero e proprio romanzo di formazione. Melanie è una ragazzina, è proprio una bambina, quando la conosceremo vive in una casa di campagna in Inghilterra bellissima dove non le manca assolutamente niente, insieme a suo fratello, insieme ai suoi genitori e insieme a una tata. Succede però nella sua vita qualcosa di terribile, perché per un incidente fortuito i genitori perdono la vita e Melanie e il fratellino rimangono soli, rimangono orfani. La tata, non sapendo come fare per poterli allevare, decide di consegnare entrambi i bambini al fratello della madre, allo zio, uno zio burbero, uno zio che ha una bottega di giocattoli a Londra in un quartiere malfamato, cupo, scuro, uno zio che non è altro che un burattinaio, lui costruisce giocattoli ma la sera fa prendere vita a quei burattini e allo stesso modo del personaggio nei Buzz incontrato in Shadow Dance, anche lui ama utilizzare le persone che gli stanno accanto come se fossero letteralmente delle marionette, quindi tenta in tutti i modi di manovrare le persone che gli stanno accanto, a partire proprio da Melanie, che è solo una bambina quando si trasferisce a casa sua, a finire alla moglie che ha sposato e che tiene reclusa e segregata in questa casa con indosso una collana talmente stretta messa al suo collo che le rimane appena un filo di voce è praticamente diventata muta. Qui Angela Carter ancora di più trasmette questo senso di soffocamento, questa prigionia che l'aveva attanagliata fino a quel momento e dichiara in una intervista che si è ispirata proprio a suo marito Paul quando ha tratteggiato, ha caratterizzato i personaggi di Honey Buzz e dello zio della bottega dei giocattoli, anche se afferma di avere nettamente esagerato in modo molto grottesco, ma è tipico di Angela metterci una marcia in più a quello che vuole raccontare proprio per rompere le barriere e ottenere una storia di impatto e devo dirvi che nella bottega dei giocattoli l'impatto è fortissimo, è una storia che vi resterà impressa senza tempo, sospesa, come se fosse una fiabba, ma una fiabba terribilmente amara, terribilmente cruda. Nel 1968 esce quello che è il secondo libro che si va a inserire nella trilogia di Bristol, ovvero Several Perception, anche in questo caso il libro non è mai stato tradotto in italiano, purtroppo aggiungerei. Ambientato negli anni Sessanta, siamo fine anni Sessanta, c'è la guerra in Vietnam che sta imperversando e il protagonista è un giovanissimo uomo di 22 anni che si chiama Joseph. Joseph sta subendo un momento di crisi estremo, è stato da pochissimo lasciato dalla sua compagna, dalla sua fidanzata, è entrato in crisi, ha un vero e proprio tracollo emotivo e decide che è arrivato il momento di farla finita, di porre fine alla sua vita. Si lascia andare totalmente, ma saranno tutta una serie di personaggi molto eccentrici e particolari che lo circonderanno in quel periodo della sua vita a farlo rinascere in qualche modo. Noi assisteremo a un processo di cambiamento di Joseph, una crescita, un cambiamento radicale che lo porterà in qualche modo a capire che deve dare una sferzata alla sua vita, deve ottenere un cambiamento per poter proseguire, per poter andare avanti. Succede la stessa cosa anche nella vita di Angela perché siamo nel 1969 quando Angela decide di non poter più andare avanti così, decide che deve cambiare qualcosa e allora decide di lasciare il marito, di partire e di recarsi in Giappone per due anni. Viverà in Giappone dal 69 fino al 71 e si racconta che proprio durante il viaggio iniziato intrapreso in aeroporto Angela si sfilò la fede dal dito, la lasciò cadere in un posacenere e decise che da quel momento in poi non sarebbe mai più tornata da Paul. Corinna Sougou della sua amica illustratrice racconta che proprio in quel momento ricevette una lettera da parte di Angela dove le diceva appunto che non sarebbe mai più tornata da Paul. Si trasferisce in Giappone, in Giappone incontra un nuovo amore, Sozo, un uomo che inizialmente le fa battere fortissimo il cuore, lei affascinata sia da lui in quanto appunto è una persona che inizialmente le dà tutto l'amore che lei fino a quel momento non aveva ricevuto, sia dalla cultura diversa, una cultura orientale, una cultura che Angela comincia a sperimentare, della quale rimane profondamente affascinata sin da subito. Ma anche Sozo purtroppo si rivelerà essere un blef perché promesso a un'altra donna lascerà Angela all'improvviso. Un'altra donna probabilmente sarebbe crollata di fronte a quest'ennesimo fallimento ma Angela si dà forza, decide di rimanere lo stesso in Giappone, non tornare in Inghilterra, rimane per due anni, trova un lavoro come hostess e nello stesso tempo si avvicina moltissimo alla cultura orientale accostandosi al teatro. Lei è affascinata dal teatro giapponese che è il teatro del Kabuki. Il teatro del Kabuki è un teatro che rappresenta delle opere popolari, rappresenta fatti quotidiani, realmente accaduti, rappresentati da attori che sono persone comuni. Lei rimane talmente tanto affascinata da decidere, da capire che la vita che sta vivendo non è altro che un palcoscenico sul quale lei stessa sta calcando la scena. E piano piano si avvicina sempre di più al concetto shakespeariano di vita come palcoscenico, di tragedia da rappresentare, da raccontare. In quel periodo Angela scrive un altro libro fondamentale che si intitola I buoni e cattivi. I buoni e cattivi è un romanzo di fantascienza post-apocalittico ambientato in un mondo totalmente spopolato da un disastro nucleare in cui il mondo, le persone, la popolazione che è rimasta viva, è stata suddivisa in classi, in classi sociali. Abbiamo i professori, sono la casta d'elite, la gente che ha una cultura, è proprio uno di questi professori, ha una figlia che si chiama Marianne, che sarà la protagonista della storia, che ci racconterà la storia, che vive come Angela in qualche modo, reclusa all'interno di una torre di cemento bianca, attraverso la quale, attraverso una finestra, osserva il mondo fuori. Al di là del villaggio dei professori c'è la seconda casta, ovvero quella dei barbari. Un giorno questi barbari si nutrono cacciando nella foresta e saccheggiando il villaggio vicino. Un giorno Marianne, affacciata alla finestra, osserverà uno dei barbari avvicinarsi al villaggio, si chiama Gioiello, e si renderà conto che questo barbaro è terribilmente ferito, irrimediabilmente ferito. A questo punto, pur sapendo che l'è totalmente vietato scendere e scappare dalla sua torre, perché il padre la tiene per questioni di sicurezza reclusa lì dentro, lei decide di disobbedire, scappa, si avvicina a Gioiello, lo avvicina intimorita, ma lo cura e fugge insieme a lui. Lascia il mondo dei professori, dell'elite, della cultura per avvicinarsi al mondo dei barbari. Attraverso questa scelta drastica e attraverso una serie di avventure, di vicissitudini che viverà Marianne al limite, proprio avventure estreme, Marianne cercherà la sua vera identità, la sua maturità e finalmente una libertà. Anche qui troviamo un fortissimo eco alla storia, alla vicenda, alla vita di Angela, appunto. Nel 1971 Angela Carter scrive il terzo romanzo che si va a inserire nella trilogia di Bristol, un romanzo tra i tre, forse il più cupo, il più difficile, si intitola Love e riguarda la storia di un amore, però un menage au trois, un amore tra tre persone. Sono un professore, un insegnante che si chiama Lee, che è sposato con Annabelle, una donna che non sta con i piedi per terra, è un'artista fantastica, ha una vita migliore, fantastica, immagina un mondo migliore. E poi c'è il fratello, Buzz, il fratello di Lee. Succede che questo matrimonio, in qualche modo tra Annabelle e Lee, subisce un tracollo. Lee per un momento di crisi, tradisce Annabelle facendola sprofondare in uno stato di sconforto totale. Annabelle, che è sempre stata molto fragile, aveva già più volte presentato problemi di crolli emotivi, trova nel fratello Buzz un'ancora. Nonostante Buzz sia una persona totalmente poco raccomandabile, entra a gambatesa nel rapporto tra i due e Annabelle si avvicina moltissimo a lui. In questo romanzo Angela Carter rappresenta l'amore come un vero e proprio atto di autodistruzione, come una coppia, così come un trio di persone, appunto un menage au trois, possa in qualche modo comunque portare all'autodistruzione dell'amore in sé. Un po' quello che lei aveva vissuto sia nel suo matrimonio, sia nel rapporto con Sozo, quando si era innamorato e quando aveva pensato di trovare finalmente una via di fuga. Siamo nel 1972, quando Angela Carter scrive un altro romanzo, dà un impatto tremendo. Nel frangente è tornata dal Giappone e inizia a dimostrare, a mostrare, a far sentire quell'idea che piano piano si sta radicando sempre di più, ma che è sempre stata presente nella sua mente, ma che adesso sta prendendo corpo, sta prendendo forma, ovvero il femminismo. Angela Carter è stata definita una femminista, ma era una femminista anticonformista, perché lei appoggiava per la stragrande maggior parte, diciamo, le teorie delle femministe, delle donne che lottavano in quel tempo. Gli anni 60 e 70 erano anni in cui il problema del femminismo era molto forte, si sentiva molto forte, ma Angela andava contro a un principio fondamentale che, diciamo, manteneva l'idea del femminismo. Andava proprio contro a quel concetto che le donne continuavano a ribadire di etichettarsi dietro il sesso debole solo perché gli uomini erano i dominatori e gli oppressori. Angela Carter in qualche modo cercò da subito nelle sue opere di eliminare questa differenza di genere. Sosteneva che le donne e gli uomini non avevano nessuna differenza di genere, avevano lo stesso ruolo, giocavano lo stesso ruolo alla pari nel rapporto di coppia, alimentando e distruggendosi vicendevolmente. Nel 1972 esce Le infernali macchine del Desiderio, ambientato in Sud America. Vede come protagonista Desiderio, appunto. Desiderio è il ministro della capitale del Sud America e praticamente si ritrova di fronte a una situazione molto particolare perché il mondo è in un terribile tumulto. La gente, la società, sta letteralmente impazzendo. Cos'è accaduto? È accaduto che un uomo, uno scienziato pazzo, possiamo dire così, il dottor Hoffman, ha creato delle macchine particolari che hanno la capacità di alterare letteralmente il tempo ma anche la realtà dei fatti. La gente attraverso queste macchine può vivere, può vedere davanti ai propri occhi delle vere e proprie allucinazioni prodotte dalla propria mente. Il primo Desiderio viene colto da queste allucinazioni ma ne rimane totalmente affascinato perché a essere protagonista delle allucinazioni di Desiderio è una donna bellissima, una donna vetro che le si presenta, gli si presenta costantemente nelle sue notti e lui rimane totalmente affascinato e appassionato da questa donna. Nient'altro è che Albertina, la figlia dello stesso dottor Hoffman, la figlia di colui il quale sta progettando di alterare completamente la realtà del mondo. Immaginate cosa possa significare se tutti i pensieri e tutti i desideri più reconditi della mente umana all'improvviso potessero realizzarsi di fronte ai nostri occhi. Da una parte ci sono reazioni positive, dall'altra parte quello che si genera è un tumulto, è un caos generale. Infatti è quello che accade, la gente comincia a impazzire letteralmente, si scatena una violenza abnorme, allucinante e Desiderio essendo il ministro di quella capitale è costretto a intervenire. Interviene mettendo da parte la passione, l'amore, il travolgimento che sta vivendo nei confronti della sua allucinazione di questa donna magnifica per far prevalere la ragione. È il primo romanzo in cui Angela Carter parla della contrapposizione tra realtà e finzione, tra realtà e immaginazione, tra desiderio e passione, tra desiderio di ottenere qualcosa invece concretezza, realtà dei fatti. È il primo romanzo in cui Angela Carter tenta di lanciare un sasso su quello che stanno facendo, di più negativo, di più terribile, i mass media nei confronti degli esseri umani. Perché le famose macchine del desiderio del dottor Hoffman non sono altro per Angela che la televisione e i giornali, tutti i mezzi attraverso i quali la gente viene quotidianamente bombardata non sapendo più se quello che gli viene riferito effettivamente reale o frutto di finzione e immaginazione. Nel 1973 nella vita di Angela Carter succede qualcosa di importantissimo. Incontra un'altra donna fondamentale nella sua vita che è Carmen Khalil, editrice di Virago, una casa editrice che aveva dato sempre voce alle scrittrici femminili ed è proprio attraverso Carmen Khalil che alcuni romanzi che erano stati rifiutati da molte casa editrici vedono finalmente la luce per Angela. Nel 1974 un altro evento importantissimo va a sconvolgere la vita di Angela e questa volta in positivo. Finalmente incontra l'uomo della sua vita. È il 1974 quando incontra Mark, è un incontro casuale, si innamora perdutamente di lui e lui sarà l'uomo che l'accompagnerà per il resto della sua vita e dal quale finalmente avrà un figlio seppur in età molto avanzata e ormai Angela è molto matura quando diventa madre, diventerà madre nell'82 di un bellissimo bambino di nome Alexander. Con Mark conduce una vita meravigliosa ed è proprio in quegli anni che Angela accetta un lavoro presso l'università di Sheffield come insegnante di scrittura creativa. Uno dei suoi allievi fu niente meno che il premio Nobel per la letteratura Kazoo e Shiguro, giovanissimo all'epoca, che racconta in un'intervista di aver avuto un'insegnante meravigliosa dalla quale pendeva letteralmente dalle sue labbra. È durante queste lezioni di scrittura creativa che Angela Carter parla finalmente di qual è il suo obiettivo vero attraverso la scrittura, ovvero attingere al passato, alle fonti del classico, di ciò che è considerato classico, utilizzarlo, inserirlo nelle sue opere, riempastarlo, rielaborarlo completamente e ridargli una nuova veste, una nuova interpretazione che rimarrà attuale per sempre perché leggere i libri di Angela Carter, oggi come ieri, ha un significato che sembra totalmente e assolutamente attuale, hanno un sapore di moderno, di totalmente nuovo ogni volta che vengono letti. In quel periodo appunto si addentra, fa il primo esperimento per quanto riguarda la sua scrittura creativa e decide di farlo attingendo a una delle fonti probabilmente più intoccabili per quanto riguarda il genere narrativo, ovvero la fiabba. Scrive la sua prima raccolta di racconti che si intitola Fuochi d'artificio facendo un lavoro da certosino, ovvero riprendendo le fiabbe del passato in Fuochi d'artificio troveremo per esempio la favola di Collò di Pinocchio rivisitata completamente da Angela Carter e la sua si intitolerà Lady Porpora, il suo racconto dove conosceremo una delle marionette più lasciva e lussuriosa della storia. E appunto cosa fa? Fa, mescola il significato che aveva la favola nei tempi antichi perché la favola era il mezzo attraverso il quale scrittori come Collodi, come Perrò, come i fratelli Grimm avevano mandato all'interno della favola un significato che potesse essere in qualche modo pedagogico per chiunque leggesse quella favola, le favole contenevano la morale appunto, un significato, un simbolo, lei li va completamente a spezzettare, a frammentare in tante piccole parti, a cercare all'interno di quelle storie tutte le contraddizioni e ridargli nuova vita, ridare un corpo nuovo alla favola. Angela Carter è stata considerata la scrittrice che ha ridato un significato al ruolo femminile all'interno della letteratura perché proprio all'interno di queste favole inserisce dei personaggi femminili di altissimo spessore, donandogli sempre quel velo aulico che la figura femminile ha, possiede, è innato nella donna, ma dimostrando anche il suo lato carnale. Angela decide di dover levare, privare la figura della donna da quegli stereotipi, da quelle credenze popolari che erano state appiccicate sopra di essa, ritenendola perennemente una vittima, ritenendola il sesso debole appunto, e dare spesso nuovo spessore a queste figure. Dopo Fuochi d'artificio un altro evento importante nella sua vita avviene nel 1977, quando un'altra persona entra a far parte della sua vita ed è un altro amico con la maiuscola che lei si ritroverà fino alla fine dei suoi giorni. Si tratta di Salman Rushdie, durante una serata in occasione di un evento che riguardava la presentazione di uno scrittore cileno, Angela Carter ha un dialogo con questo scrittore cileno che in un certo senso la deride per l'ultima opera scritta da Angela Carter in quel periodo, che forse è stata l'opera più scomoda, l'opera più rischiosa. Ma essendo Angela una donna estremamente coraggiosa e soprattutto una donna estremamente indipendente che desiderava far conoscere una nuova identità di donna a tutte le donne appunto, lo so, lo so tantissimo scrivendo La passione della nuova Eva. È durante quella serata che Salman Rushdie assiste a un dialogo tra lei e lo scrittore cileno che la deride e le va contro proprio in occasione del commento riguardo a questa sua opera, che Rushdie interviene avendo letto La passione della nuova Eva difendendola. Salman Rushdie è all'inizio della sua carriera, lui è un famosissimo scrittore indiano oggi e aveva appena scritto il suo primo romanzo, era giovanissimo, la difende estremamente e ricorda allo scrittore cileno chi ha davanti. Gli dice tu stai parlando con Angela Carter, ricordati che è una delle migliori scrittrici che esistono in Inghilterra. È in quell'occasione che l'amicizia tra Rushdie ed Angela Carter diventa un nodo indissolubile. Come vi dicevo nel 1977 esce La passione della nuova Eva, un romanzo particolarissimo, il primo romanzo di fiction che parla di differenza di genere. Racconta la storia di un insegnante di nome Evandro, un insegnante inglese da sempre affascinato dal mondo del teatro e del cinema muto, in particolar modo è affascinato da una protagonista del cinema muto, un'attrice di nome Tristessa, un uomo che decide di partire, di lasciare l'Inghilterra per recarsi a New York. Lì incontrerà una New York però sotto un tumulto generale, una New York violenta, una New York totalmente invivibile, fatta di corruzione, droga e violenza. A quel punto non ce la fa a continuare questa vita, decide di lasciare New York e parte per un viaggio, un viaggio estremamente introspettivo, un viaggio che lo porterà talmente tanto a cambiare, attraversare un deserto che è prettamente simbolico perché si ritrova ad essere tanto solo ma nello stesso tempo accompagnato da personaggi veramente bizzarri e assurdi che lo aiuteranno a fare un vero e proprio stravolgimento della sua vita. Evandro lascerà gli suoi abiti da uomo per nascere all'interno del corpo di una nuova donna, ovvero una nuova Eva. È il romanzo in cui Angela Carter ha osato di più in assoluto, il romanzo più scomodo di questa scrittrice, il romanzo in cui per la prima volta Angela Carter fa capire quanto sia complesso e complicato essere una donna. Siamo nel 1979 quando esce quella che è stata considerata la raccolta di racconti capolavoro di Angela Carter, ovvero la camera di sangue. Come vi dicevo prima è qui e in questa occasione che Angela Carter attinge a piene mani alle favole, alla fiabba, al mezzo tradizionale educativo che si era tramandato dall'epoche antiche fino ai giorni in cui appunto fino ai giorni nostri ancora oggi si utilizzano le favole per insegnare ai bambini, per dare una morale agli avvenimenti. Angela Carter attinge proprio a quel mezzo per stravolgere quelle favole, per raccontarcele in modo completamente diverso, in un modo totalmente potente, in un modo anche molto molto inquietante. La raccolta la camera di sangue è la sua opera più bella in assoluto. Salma Rushdi disse in un'intervista che non aveva raggiunto mai questi livelli, che la potenza di Angela Carter si vede proprio all'interno di quei racconti, che arrivano al lettore con un impatto fortissimo. Sono tutte storie che hanno un comune denominatore, che sono legate attraverso un fil rouge per ottenere alla fine questo messaggio importantissimo sulla figura femminile, che da vittima diventa parte integrante della storia. La donna non è più inserita all'interno della fiabba come colei che subisce, ma come colei che disegna il suo destino letteralmente. Nel 1982, come vi avevo detto in precedenza, diventa mamma, per la prima volta nasce Alexander, un bambino bellissimo, meraviglioso, che Angela ama follemente. Nel 1984 scrive una delle sue ultime opere, purtroppo, Notti al circo. Notti al circo è un'opera ancora più potente, se si può dire, rispetto alle precedenti. I suoi personaggi femminili, via via che leggevo i libri di Angela, che andavo seguendo cronologicamente le sue storie, mi rendevo conto come i suoi personaggi femminili da storia a storia si evolvevano, crescevano sempre di più, arrivavano a una maturità tale che verrà raggiunta solo con l'ultimo libro di cui presto vi parlerò. In Notti al circo ci presenta un'eroina magnifica, potente, mastodontica, gigantesca. Una donna che si chiama Fivers, che è una trapezista alata, che ha appena finito di esibirsi nel circo di Londra e si trova all'interno del suo camerino angusto e polveroso, insieme a un giornalista che la sta intervistando e alla sua cara amica che le fa compagnia e che l'aiuta durante le serate per prepararsi agli spettacoli. Siamo a Londra, siamo nel 1899, è notte e gli orologi sembrano essersi tutti fermati alla mezzanotte. Il tempo è fermo quando Fivers inizia il racconto della sua vita. Sostiene di essere nata dentro un uovo, di essere uscita da un uovo, di essere stata abbandonata presso un bordello inglese, di essere stata cresciuta all'interno di questo bordello e poi di avere trovato la sua strada all'interno del circo. Sostiene di possedere delle ali e di essere una trapezista alata. Il giornalista è incredulo da una parte, sentendo le storie che racconta Fivers, ma dall'altra parte è talmente affascinato dal mondo che descrive Fivers e talmente desideroso di scoprire quale sia la verità che decide quella notte di lasciare la sua vita, la sua quotidianità, per partire insieme a Fivers e spostarsi con il circo. Da lì il romanzo è diviso in tre tappe fondamentali, il circo si sposterà in Siberia una prima volta e poi a San Pietroburgo. Conosceremo tutti i personaggi che costellano i romanzo notti al circo e vi posso dire che sono tantissimi, ma tutti con una potentissima caratterizzazione psicologica, ognuno dei quali ci racconterà un pezzo di storia della società. È palesemente una satira sociale, è palesemente un romanzo provocatorio, è palesemente un romanzo che si interroga su una cosa fondamentale. Quanto sia fondamentale conoscere la verità per quella che è e quanto invece è importante nella vita di ogni essere umano il simbolo, il significato più che altro che attribuiamo alle cose. Fivers è veramente una donna lata nel vero senso della parola o crede fermamente di essere una donna lata e quel semplice crederci le conferisce una libertà che nessuno le potrà mai togliere. Io credo che Notti al circo sia stato uno dei romanzi più belli di Angela Carter che io abbia mai letto. A questo punto siamo arrivati al 1985 ed esce un'altra raccolta di racconti di Angela Carter sublime, stupenda, che si intitola Venere Nera. All'interno di questa raccolta di racconti Angela Carter decide nuovamente di attingere a qualcosa di concreto, di qualcosa di reale che esista nel passato. Attinge alla storia di alcuni volti noti della storia, in particolare volti noti della letteratura, per reinventarla, per rimmaginarla a modo suo. Per esempio, proprio i racconti Venere Nera è il racconto fatto dalla prostituta cubana che si chiamava, scusatemi un attimo, che è l'amante, ecco, Jeanne Duval, amante di Charles Baudelaire. In un altro racconto incontreremo la storia del rapporto tra la madre di Edgar Allan Poe, Elisabetta Allan Poe, sì scusatemi, Edgar Allan Poe, e incontreremo anche un altro personaggio reale che è esistito realmente nella storia, che è Lizzie Borden, che nel 1893 uccise padre e madre a colpi di ascia, una donna che significò tantissimo nel corso della storia, perché il delitto commesso da questa donna non venne mai effettivamente rivelato, mai effettivamente furono trovate prove concrete per arrestare questa donna e Angela Carter, proprio a questo personaggio, dedica un racconto che si intitola delitto a Fall River. In quegli stessi anni, nel 1985, Angela si appassiona a un nuovo mezzo espressivo, un nuovo mezzo di comunicare la storia, ovvero la radio. Gli scrittori erano molto affascinati a quell'epoca a questo nuovo mezzo espressivo, questo nuovo mezzo di comunicazione, perché immaginavano in qualche modo di riuscire per la prima volta a dare voce ai loro personaggi, concretizzarli questi personaggi, se già i personaggi di Angela Carter sono vividi all'interno dei suoi libri, perché le storie di Angela Carter sono storie polifoniche, che attraverso un perfetto connubio di voci tra scrittore che crea quelle voci, personaggi che le emettono quelle voci e lettore che le legge, si crea un rapporto unico e meraviglioso, attraverso i radiodrammi, Angela Carter riesce ad esprimere quelle voci e farle sentire ancora più forti. Scriverà diversi radiodrammi che sono contenuti all'interno della raccolta che si intitola Venite su queste sabbie d'oro e appunto attraverso questo mezzo Angela riesce a raggiungere degli apici di comunicazione altissimi. Siamo arrivati al 1991 ed è un anno difficilissimo per Angela perché mentre sta scrivendo quello che a questo punto sarà il suo ultimo romanzo, viene a conoscenza di una notizia terribile. Le viene diagnosticato un cancro ai polmoni, una malattia incurabile, a uno stadio tra l'altro gravissimo e Angela capisce che il sipario si sta calando sulla sua vita. È in quel momento che Angela scrive il suo ultimo romanzo che si può considerare il suo testamento letterario ovvero Figlie sagge. Figlie sagge è stato il primo romanzo che io ho letto di Angela Carter e quello che mi ha fatto appassionare in un modo feroce a quest'autrice. Oggi dopo aver ripercorso la sua intera vita capisco come mai, capisco il perché. Perché nelle protagoniste Dora e Nora sono due donne anziane che hanno 75 anni, due gemelle, due subrette che hanno calcato i palcoscenici, che hanno vissuto la vita di spettacolo, due donne che si considerano essere nate dal lato sbagliato del Tamigi, dal lato povero, due donne che quando erano solo due bambine sono state partorite dalla madre, il padre non le aveva mai riconosciute, la madre muore durante il parto e loro rimangono presso la casa di questa donna che ospitava la madre, che è la donna Chance, infatti da lei prendono il cognome Dora e Nora Chance. Due donne che nonostante il loro passato difficile sanno di valere tanto. È il giorno proprio del loro compleanno, il 23 aprile, che è anche lo stesso giorno che compie gli anni Shakespeare, ma che è anche lo stesso giorno in cui compie gli anni il loro padre centenario che non ha mai riconosciuto le due figlie, ricevono un invito a partecipare a quella festa. È proprio in quell'occasione che Dora e Nora si consultano, pensano al loro passato e decidono di accettare quell'invito, di partecipare all'evento straordinario che si terrà sul lato giusto, sul lato ricco del Tamigi, la festa di Melchior Hazard, l'uomo più importante della storia del teatro, un uomo ricco, un uomo benestante, un uomo che però dietro di sé ha lasciato tanto dolore. Decidono di partecipare e lo fanno con uno spirito molto ironico e molto cinico, uno spirito dettato dal fatto di andare a levare tutti quei coperchi, tutti quei coperchi che avevano tenuto i segreti, nascosti, le vicende della vita, della storia di questa famiglia, la famiglia Hazard, tra cui c'erano appunto Dora e Nora, nonostante non fossero mai state riconosciute. È un romanzo meraviglioso, un romanzo polifonico, e Dora e Nora rappresentano la summa di tutte le protagoniste femminili delle opere di Angela Carter. Rappresentano il processo finalmente di maturità che aveva fatto Angela e attraverso tutti i dolori, tutte le vicende, tutto il passato di ognuna delle sue protagoniste femminili dei suoi romanzi. Dora e Nora ne rappresentano proprio il significato ultimo. È il suo testamento letterario che ci ha donato e ringrazio veramente di averlo letto, di averlo scoperto, perché scoprire Angela Carter è stato veramente come affacciarsi a una finestra e vedere il mondo sotto un'ottica completamente diversa, attraverso gli occhi di Angela. In quell'occasione, nel 1991, quando lei scopre di essere gravamente ammalata, Salma Rushdie ricorda una particolare telefonata avuta con Angela. Lei ormai era agli sgoccioli, stava malissimo e durante quella telefonata con un filo di voce Rushdie la invitò nuovamente a lottare per la sua vita, a lottare contro questa terribile malattia che è il cancro, che non perdona nessuno, neanche le donne più importanti e più potenti come Angela Carter che erano nel fiore della sua vita, aveva solo 51 anni ed era nel pieno della sua produzione letteraria e arriva questo terribile male a stroncarle le gambe e a metterle un tappo letteralmente in bocca. Si cala il sipario. Angela dice al telefono quando Rushdie la sollecita a lottare ancora di sorridere. Lei sta sorridendo. Come ha sorriso alla vita, sorride alla morte. Se ne fa beff della morte. Angela Carter ci ha insegnato a vivere. Ci ha insegnato, credo, veramente un nuovo modo di immaginare, di vedere il mondo tutto nuovo, tutto diverso, ma ci ha insegnato, uscendo di scena, anche come si muore, come morire. È morta sorridendo. È morta il 16 febbraio del 1992 nella sua casa, accanto a suo marito Mark e a suo figlio Alexander e ha lasciato un immenso, immenso patrimonio che vi invito a recuperare. Il mio video era assolutamente finalizzato a questo, a far sì che chiunque possa conoscere Angela Carter si possa accostare a lei. Non abbiate timore, anche se i suoi libri inizialmente vi sembrerà che vi portino in un mondo assurdo, senza capire effettivamente dove si vuole arrivare a parare, ma vi invito a scoprirla, perché è una donna coraggiosa, una donna che non ha avuto paura di dire quello che pensava, una donna che ha lottato per i suoi ideali, una donna che ha avuto accesso a un mondo immaginario, un mondo fantastico che non tutti possiamo vedere, ma lei ce ne ha donato qualche stralcio, qualche scorcio e io vi invito a vederlo, il suo mondo, a entrarci, a lasciarvi trasportare dalle sue parole perché rimarrete totalmente incantati e affascinati. Io spero di essere stata in grado di raccontarvi un po' la sua storia, mi piacerebbe concludere con le ultime parole che Rushdie le ha dedicato, perché nel 1992 Rushdie le dedicò un saggio scritto da lui sul mago di Oz, lui era appassionato al film Il mago di Oz e disse che Angela era come la strega buona del mago di Oz, anzi è la migliore strega in assoluto. Io con questo vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, spero di essere riuscita a trasmettervi tutto quello che i libri di Angela hanno lasciato a me. Se volete parlarne, se volete avere informazioni aggiuntive, se volete sapere a quali fonti mi sono diciamo andata a documentare, dove sono andata a cercare per scoprire su di lei, scrivetemi qua sotto, vi dirò tutto. Vi mando un grosso bacione, vi rimando al prossimo video e a presto e vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qua, per chi è arrivato appunto fino a qua. A presto, ciao!